Una giornata in compagnia della Polizia Provinciale alla scoperta delle nostre vette, della legislazione a tutela della flora e della fauna locale e dei segreti dei mestieri legati alle attività montane. È l'esperienza che hanno potuto provare i giovani partecipanti al progetto On the Road 2012, un programma educativo di 5 settimane che coinvolge 24 ragazzi delle province di Bergamo e Milano nelle attività operative fianco a fianco con gli agenti della Polizia. Abbiamo quindi parlato anche proprio degli animali che vivono nella zona delle Alpi e quindi della gestione di questi animali, come la provincia in collaborazione con i cacciatori gestiscono i censimenti e di conseguenza i piani di abbattimento. Passeggiando lungo i sentieri del passo San Marco in Val Brembana i ragazzi hanno scoperto come si svolge la giornata tipo della Polizia Provinciale. Abbiamo fatto un controllo su un pescatore, gli abbiamo spiegato cos'è la licenza di pesca, i documenti che occorrono per pescare e soprattutto le prescrizioni, tutta la normativa inerente alla pesca. Abbiamo trovato dei cacciatori che stavano c'è in centro dei camosci, gli abbiamo parlato dell'areale della fauna tipica alpina, gli abbiamo parlato della vegetazione alpina, l'arice, il pinomugo, dei fiori, della flora, della normativa che protegge del discorso moto e viabilità che sono vietati sui sentieri. Tra gli obiettivi primari del progetto educativo on the road vi è infatti la sicurezza e la conoscenza delle norme per il rispetto degli altri e dell'ambiente che ci circonda.